Ora, come sono una sorella io, unica al mondo, vada qua, mia sorella ha detto vieni dobbiamo registrare dei video, ho detto vieni e ti facciamo colazione assieme, preparo la colazione. Ti piaceva la mammellata rossa, ce l'ho solo arancione. Ah ti piaceva? No perché era finita quella di abicocchi e ho messo questa qua, sapendo che a te ho sbagliato. Comunque ho fatto il pane di segale con lo yogurt e la mammellata che vi ho fatto vedere in un video sul mio secondo canale, una bella spiamuta d'arancia che ci vuole contro il raffreddore in merdico, arancia rossa bio, e poi gli albumi col burro d'arachidi, la mia specialità. Con il cioccolato. A te l'ho messo un po' di quello, un po' più di cioccolato e a me un po' più quello normale, proprio quello che è il cioccolato, comunque tutti e due. Adesso mangiamo e buon appetito e viva le sorelle. E viva la colazione. Buongiorno e benvenute a questo nuovo vlog. Io sto andando dal parchiere, ho i capelli tutti sporchi. Ho messo questa sciarpetta perché ho un po' di mal di gola e quindi ho messo questa sciarpetta che mi piace tantissimo. Grigia, troppo bella. La sorella è già salviata, abbiamo registrato due video assieme, perché come sapete registriamo sempre un video... Ho tutto l'occhio che si sta togliendo, perché ho parlato tantissimo. Uno per il mio canale e uno per il suo canale. E poi adesso andiamo dal parchiere assieme, lei è già salviata, quindi me ne vado perché è tardissimo. Pupi non c'è perché è andata al parco, mia mamma l'ha venuta a prenderla e l'ha portata assieme agli altri miei due cani al parco a fare una passeggiatina. Ma se vi volevo farvi dire che già ho steso tutti i panni, che bello, sono troppo brava. Guardate come li ho stesi bene, benissimo tutti i panni ho steso. Dormi, lei dormicchia, c'è un nicchia. Su questi qua che ha fatto mia mamma, no? Dei tipo braccioli per divano. Lei adora con tanto spazio di divano mettersi qui. Meno piccolina, quando si tolge. Bella. Ragazze, mi è arrivato il pacco da Natural Mojo, sono troppo troppo felice. Allora, Fit Chocolate buonissimo, che praticamente questo qua può andare anche a sostituire un pasto se fate la dieta, eccetera. Se no, altrimenti un integratore, io lo prendo come integratore ed è buonissimo. E sa di cioccolata, ragazze, è ottimo. Veramente, veramente ve lo straconsiglio. E poi, vabbè, c'è tutto il catalogo di tutte le cose. E' troppo bello, sono tutti troppo buoni. Anche il Fit Banana, anche il Fit Banana è buono, io già ce l'ho. E questo è il Berry Boost, questo serve proprio per aumentare il metabolismo. Infatti c'è scritto che è un mix di ingredienti verdi e bacche, che serve proprio nella dieta e anche aumenta il senso di energia, di buon umore, eccetera. Guardate quanti ingredienti contiene, bellissimi. Questi due mi sono arrivati, adesso mi preparo le proteine, così approfitto per farvi vedere. Su Natural Mojo, voi mi raccomando, se comprate queste cose, qualsiasi prodotto usate, utilizzate sempre il mio codice sconto CalitaFit20, che praticamente potete comprare o i prodotti Fit, quindi Fit Chocolate, Fit Banana, o qualsiasi prodotto, anche le whey, anche le proteine, Berry Boost, qualsiasi prodotto sul sito, utilizzate sempre il codice sconto CalitaFit20 e avrete 20% di sconto sull'acquisto, qualsiasi cosa comprate. E fatemi sapere come vi trovate, in tanti mi state dicendo che li state usando e li state trovando bene, però ci sono tanti di voi che ancora mi chiedono come si utilizzano le proteine, quando bisogna prenderle, come prepararle, quindi adesso vi faccio vedere. Qua gli altri che ho in questo mobile, adesso prendo le whey a vanilla e vi faccio vedere. Io ogni giorno le prendo, a differenza del Fit, prodotti Fit Chocolate, Fit Banana, che contengono proteine e tanti altri ingredienti, tipo frutta e verdura, che voi potete prendere anche come integratore, o proprio per sostituire i passi, se ci mettete il latte, l'olio, eccetera. Questo invece è un integratore di proteine per persone sportive che si allenano, tipo come me, e quindi per aumentare la massa muscolare, scusate se ho un capello, per aumentare la massa muscolare, ad esempio, ve le straconsiglio. Tutti gli sportivi chiunque va in palestra le prende, sono straconsigliate, io vi consiglio queste qua, perché sanno di vaniglia e sono buonissime, invece tante sanno di chimico, a me non piacciono, ne ho provate tante di altri siti, queste sono veramente molto naturali, il sapore. E io le prendo prima dell'allenamento, però c'è anche chi le prende dopo, dopo l'allenamento per riempire i muscoli, eccetera. Io dato che dopo l'allenamento, mi alleno la sera, quindi dopo l'allenamento io vengo a casa e mi mangio quello, quello e Maria Stella, faccio una cena super proteica e ricca di tutto, quindi vengo subito qua e mangio. Ecco perché invece le prendo prima, appunto le prendo due volte al giorno io. Allora la mattina tipo come spuntino, fra colazione e pranzo, 25 grammi e prima, proprio mezz'ora, prima dell'allenamento, prendo 25 grammi di proteine più due cucchiaini di miele appunto per darmi energia e forza muscolare. Però a volte la mattina, se faccio, posso fare anche uno spuntino, tipo un panchè, eccetera, se ho tempo, prendo uno spuntino, oltre alla colazione, allora non le prendo la mattina, le prendo solo il pomeriggio. Comunque è sempre, sempre, almeno una volta al giorno, prima dell'allenamento oppure dopo. Decidete voi, parlatene con il vostro personal trainer, in palestra, eccetera. Ecco qua, allora ragazzi, io praticamente verso qua dentro, questo qua è lo shaker sempre di Natural Mojo che appunto potete trovare sempre sul sito naturalmojo.it e io ci metto le whey, le vado a pesare e io ne prendo, vi ho detto, 25 grammi circa. Già, guardate, è tipo a metà perché l'ho consumato parecchio perché lo uso sempre, le prendo ogni giorno, veramente sono le mie preferite. Da quando le ho provate penso che non le lascerò più. E vado a pesare la quantità, è semplicissimo, di 25 grammi. Ok, preciso. Poi mi verso l'acqua, sopra. L'acqua è a caso, cioè potete mettere di più o di meno, io, così, l'importante è che ce ne sia a coprire, poi si va a agitare e subito, istantaneamente, se sciolgo, cosa importante, altre volte, ne ho provate altre di altri siti, rimane con i grumi. Invece qua, veramente, ho fatto così, credetemi, già è tutto sciolto e lo posso bere. Ha un sapore veramente buono e naturale di vaniglia, molto dolce, molto buono. Ah, questo, probabilmente, l'ho lasciato fuori. Ma guardate, si è sciolto anche senza questo, questo qua serve, si mette dentro per farle sciogliere, no? Ma anche senza quello si è sciolto, cioè cosa che veramente ti fa capire la qualità del prodotto. E le bevo. Buonissime! Mi raccomando, ragazzi, comprate sul sito Natural Mojo e utilizzate il mio codice sconto. Vi lascio sia il link, sia il codice sconto nel box informazione sotto. E' bella questa ciccina, ma quando è bellissima. A me c'è una ciccina buonina, buonina, buonina. C'è sempre sonno, ragazzi, pure voi i vostri cagnolini in questo periodo. Lo so, sarà la primavera, c'è sempre sonno. E dorme tantissimo. Mamma mia, quanto sei bella, mamma. Quando sei bella. Sei una tattaruga. E la primavera ti fa dormire, eh. Quando sei bella. Bella. Ben buonina, la tua mamma. Voi teni già nelle belle zampine. Come bella. Ti amo. Oh, mi devo leccare la mia pappallina. Ancora gonfa, vero, mamma? Eh, mamma, mi fa le coccoline. Vì, mamma, mi fa le coccoline. Mi muovi tante coccoline. Mi piacciono le coccoline. E' stroncella, mi piacciono le coccoline. Mi piacciono le coccoline che ti fa, mamma. Oh, mamma. Non mi ci piacciono le coccoline. Ciccina. Non piace. Eh. Mi piacciono le coccoline. Ciccina. Ciccina. Bottanella. La patatina grande, grande. La patatina di pupi. Sono troppo, troppo felice per l'incontro che abbiamo fatto sabato. Veramente sono stra felice. Siete venute in tantissime. Anche se comunque in provincia. Perché comunque è quarto a un piccolo paese in provincia di Napoli. Veramente sono contentissima per l'affetto che mi avete dato sabato. Siete venute tantissime all'incontro che abbiamo fatto. E anche se comunque era in provincia. Anche se comunque il negozio non era tanto grande. Ma voi veramente avete riempito. E siete venute e mi avete dimostrato tutto il vostro affetto. Mi avete portato anche tanti regalini. Voglio fare il video assolutamente con tutti i regalini che mi avete portato. Perché mi avete riempito di regalini. Cartelloni, eccetera. Quindi. Sono stra felice di avervi abbracciato. Perché ovviamente voi per me siete come una seconda famiglia. Io vi voglio veramente tanto tanto bene. Quindi è sempre un piacere di vedervi. E ho promesso che faremo un nuovo evento. Un nuovo incontro. A brevissimo. Uno sicuramente a Napoli. In provincia di Napoli. Comunque in Campania. E poi speriamo anche in altre città d'Italia. Magari che insieme contatta qualche negozio. Qualche bioporfumeria. Ma negozio di qualsiasi tipo in altre parti d'Italia. Vediamo di organizzare qualcosa di carino. Per incontrarvi anche a Milano. A Roma. Un po' a Firenze. Un po' dappertutto. E io sono troppo felice. Davvero. Siete come delle amiche per me. Veramente. E lo sapete. Perché comunque. Si vede che mi fa piacere comunque vedere. E stare in vostra compagnia. Abbiamo fatto tante foto. E' stato bellissimo. Io. E' stato bellissimo. E' stato bellissimo. E' stato bellissimo. Grazie a tutti 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 Ragazzi sto praticamente dormendo Sto qua sul divano e mi è venuto tipo l'abbiocco Ma quanto bello è dormire sul divano Anche se adesso devo andare sopra Mi devo struccare Devo mettermi il pigiama, devo montare il vlog Devo andare a dormire Sono tanto tanto felice di questa giornata Nonostante il fatto comunque sapete non è un bellissimo periodo per me Però voi nei commenti mi aiutate tanto Io devo dire che mi viene semplicemente la canzone Quella che fa Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo Oddio non so se sto sbagliando tutte le note E giorno dopo poi devi ricominciare da zero Io ogni giorno c'è un lavoro che faccio ogni giorno devo ripetermi sempre le stesse cose E iniziare da capo A convincermi A cercare di stare bene Quindi con i vostri commenti Devo dire che mi aiutate Con il vostro affetto Mi aiutate a restare sempre positiva E a pensare sempre positivo Quindi spero di ricambiarvi un po' del vostro affetto E della positività che voi mi date Non so mi sto alzando come se vi volessi baciare Quando viene qualcuno e tu lo vuoi baciare per salutarlo Quando viene qualcuno a casa Ok quindi Ciao Vi auguro una buona notte Mi raccomando se vi è piaciuto questo vlog Lasciatemi un like Io vi mando la buona notte Ciao Buona notte Buona notte